Musica Gentili telespettatori e telespettatrici, ben ritrovati a questo nuovo numero di Dolomiti Turismo che quest'oggi incontra un tema particolare, parliamo di grappa, una grappa in particolare legata al territorio e allora per saperne di più saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito Roberto Castagner Grazie a voi Fondatore, amministratore e delegato della distilleria Castagner Quindi parliamo di grappa delle Dolomiti Questa è la mia ultima novità perché sono 30 anni che ho deciso di fare questo mestiere, produrre grappa Mio padre e mio nonno non facevano questo, sono la prima generazione di me stesso ma ci sono già le prossime che possono continuare questo mestiere L'idea è nata perché ho un mio socio che 5 anni fa ha acquistato dei vigneti qua nel Bellunese quindi in un'area di 400 metri di altitudine e poi faccia conto che va a dobbiare nel 250, quindi siamo nella zona più alta dove si può coltivare la vite e perché allora se si può fare un vino non si può fare una grappa quindi dopo 3 anni il vigneto produce, 3 anni dopo abbiamo raccolto le vinacce, i GT Dolomiti e da lì l'idea di fare una grappa per Cortina l'abbiamo presentata 6 mesi fa al sindaco di Cortina dicendo noi avremo questo desiderio di dedicare proprio Cortina una sua grappa fatta proprio con le vinacce del Bellunese distillate come so fare io in una maniera diciamo internazionale e per cui loro hanno detto andate avanti, intanto abbiamo costruito il packaging abbiamo deciso che faremo una grappa e l'abbiamo fatta e l'abbiamo presentata oggi a Cortina proprio la prima grappa bianca perché la grappa comunque è una tradizione di bianca ma abbiamo già cominciato a metterla in barrique a delle 3.000 bottiglie per essere pronti per le Olimpide del 2026, questo è l'obiettivo ecco quindi è una grappa proprio con i vigneti delle Dolomiti se ne parla poco però è un'eccellenza quindi cioè i vigneti delle Dolomiti è una rarità è una rarità sì, lei faccia conto che normalmente già la vite a 250-300 metri fa fatica il Trentino, le zone più alte arrivano anche quelle a 400-500 metri Belluno è a 400-450 metri quindi una zona tra l'altro di roccia quindi dove la vite soffre e non c'è niente di bello di regione che quando si soffre si produce il meglio quindi abbiamo selezionato 4 vitigni uno rosso che è il Pinot Noir per dargli un po' di struttura e circa sono 3 bianchi anzi sono 3 bianchi e un mezzo rosso che è il Traminer quindi abbiamo per la prima volta perché i vitigni sono Moscato Bianco sono Mulle Turgau, Riesli quindi li abbiamo distribuati separatamente perché hanno comunque una caratteristica molto diversa quindi per la prima volta abbiamo una grappa fruttata floreale data proprio da questi vitigni bianchi ma anche la struttura di un rosso data dal Pinot Nero mettere insieme sta roba è la mia bravura abbiamo fatto un blend l'abbiamo imbuttigliato circa due mesi fa e presentato oggi a Cortina con un grande interesse da parte proprio anche dei ristoratori, degli albergatori perché finalmente Cortina ha la sua grappa e il nome il nome è anche legato al territorio e alla tradizione del territorio un nome non scelto a caso ma che ha un'origine ladina lo lascio dire a lei Castagnale l'abbiamo scelto proprio con l'amministrazione comunale di Cortina volevamo che anche il nome fosse qualcosa collegato proprio alla cultura ladina, diciamo così questo nome è un po' difficile da pronunciare ma molto identificativo rappresenta proprio questa voglia che ha Cortina di stupire ancora una volta noi ci aspettiamo chiaramente ma tutta l'industria del Veneto piuttosto che l'Italia si aspetta appunto che Cortina offra anche nei prossimi anni questa grande opportunità di turismo io ho visto gru dappertutto oggi vuol dire che anche Cortina grazie a questo evento delle Olimpiadi sta cambiando faccia gli alberghi saranno migliorati i ristoranti saranno migliorati la gente io dico che prima di distilla grappa distilla ottimismo quindi la gente deve essere un po' felice anche di essere invasa dal mondo la mia grappa sarà proprio un segnale italiano perché la grappa si può fare solo in Italia quindi benissimo il cibo diciamo delle dolomiti benissimo i vini che ci sono e adesso è arrivata anche la grappa che è un po' l'iccare di spedizione della serata quando uno è stato bene tutto il giorno si ha visto le gare certo la grappa è il giusto suggello la grappa è quello che suggella lo spirito delle persone abbiamo il vantaggio di poter degustarla con pochi 30 grammi di grappa a 40 gradi corrispondono all'alco che c'è in un bicchiere di vino quindi in realtà uno può con tutta tranquillità godersi uno spirito di Cortina star bene con la propria compagnia e pensare ottimismo perché senza l'ottimismo non c'è economia non c'è futuro economia è futuro io immagino magari un turista che acquista la vostra grappa e vede Agadeita si chiederà il significato magari scopre anche una diciamo così un tassello per promuovere anche la nostra cultura ladina del territorio io credo che quando l'ha messa in bocca gli sparirà anche e si lo ricorderà subito perché è stata fatta proprio per essere ricordata d'altro canto abbiamo fatto una confezione quella che ho portato qua che la confezione prestigia proprio per regalare proprio alle persone che vogliono comunque portarsi via un pezzettino di Cortina ok quindi bella immagine ma c'è anche il prodotto diciamo che può entrare in tutti i bar in tutti i ristoranti per un consumo anche sul caffè che è dove che è qui la tradizione e quindi la nostra idea è proprio che anche questo prodotto qua che è stato pensato apposta studiato apposta possa dare di Cortina questa unicità che la città ha che dobbiamo portare in tutto il mondo ha parlato di bar e ristoranti Cassagnier vuol dire che è questo il mercato di riferimento di Agadeita ovvero non la troveremo oppure possiamo trovarla anche al supermercato oppure abbiamo fatto proprio due tipi di confezione una privata al ristorante chiaramente mettendo la rara quindi la cosa più pregiata facciamo solo per il momento 500 bottiglie contro le 3000 che faremo per la classica se vogliamo chiamarla così ma tutti devono io sono molto democratico noi dobbiamo fare livelli diversi le tasche sono diverse ma tutti tutti dico tutti devono apprezzare questo spirito di Cortina allora Cassagnier ci ha incuriosito portando questo splendido involucro e vogliamo anche far vedere e svelare appunto eccola qua ecco qua è la prima volta che si vede la prima volta stamattina l'abbiamo fatta vedere la giunta comunale e gli amici vuole prenderle in mano così riusciamo a fare anche il primo piano ecco eccola qui Agadeita distillerie Castagnier vedete che c'è anche il logo di Cortina e allora Cassagnier mi permette una considerazione una promozione anche per Cortina ha detto che l'amministrazione ha accettato di buon grado no ha accettato ci ha spinto addirittura quindi lo dico io credo che il futuro sarà proprio di creare rete tra media produzione ed enti che devono gestire gli eventi o comunque la territorietà quando c'è questa intesa quindi rendere corto e veloce questo percorso il produttore l'industria diciamo comunque anche l'artigiano è pronto a innovare non deve trovare top top burocrazia e troppi no altrimenti il mondo non va avanti questo è un esempio di come assenteci trovato come spirito quindi ho portato il mio ottimismo e avendo detto guardate possiamo fare una grappa unica al mondo dedicata a Cortina con un nome cortinese abbiamo visto aprirsi tutte le porte e praticamente in sei mesi siamo arrivati alla produzione quindi è un esempio di come quando si riesce ad essere corti ok si riesce ad essere anche bravissimi è un fenomeno diffuso principalmente in Trentino e Alto Adige abbinare un prodotto di eccellenza anche con il marchio del territorio in questo caso Cortina voi mi sembra di capire anche in prospettiva olimpica quando Cortina sarà sui riflettori ancora più di adesso di tutto il mondo e quindi può essere anche un precedente secondo lei che può essere seguito per altri prodotti di eccellenza io credo che questo deve essere il senso delle Olimpide non è solo premiare chi vince ma è premiare un territorio quindi premiare i prodotti del territorio i prodotti che ha fatto quindi anche le persone del territorio quindi dico nel momento nel quale ci si mette a disposizione e l'obiettivo comune è di far crescere tutti si ottengono questi tipi di risultati noi omaggeremo chiaramente tutto il mondo sportivo lo faremo come amministrazione come Castagnia a tutti quelli che vinceranno chiaramente qualcosa e tutti i dirigenti una bottiglia di Agadeita perché se la portino a casa è certo per assaporare i prodotti del territorio e portare a casa a proposito la situazione albergatori l'avete coinvolta in questo progetto oggi c'era con noi felici anche loro garantendoci una bella esposizione perché la gente deve vederla ma proprio convinti che oltre ad avere chiaramente altre grappe perché questa non esclude chiaramente altre grappe questa è una grappa dedicata a terra se io devo un cortinese deve stupire un turista che è arrivato a Cortina a fine cena deve dirgli adesso ti faccio sentire lo spirito di Cortina e Agadeita è proprio lo spirito di Cortina ecco una curiosità evidentemente in montagna la grappa è diffusa specie nel periodo invernale per scaldarsi c'è una sufficiente cultura della grappa castaniera? si guardi la grappa è nata all'interno di popoli contadini e montanari perché era l'acqua di vita quindi era proprio l'unico medicinale che c'era quindi partiamo da questa consapevolezza che è un compagno della storia della nostra umanità e che oggi è diventato un distillato di un lusso accessibile quindi oggi lo proponiamo come piacere come un'emozione non è più un digestivo un riscaldamento ma è proprio un distillato del territorio delle uova del territorio questo piace molto perché alla fine il nostro obiettivo è di far star bene le persone e tenerle ancora lì nel tuo locale a star bene e a degustare come per ultimo il distillato che abbiamo prodotto per te la riflessione che sto facendo in me e che rivolgo anche a lei è questo saranno sufficienti i vigneti che avete in futuro nel senso che ci auguriamo che questa agadeita abbia un grande successo e sarà possibile invece introdurre altri nel nostro territorio c'è lo spazio il modo avete in prospettiva di ampliare i vostri vigneti allora l'abiticoltura di alta montagna sta crescendo proprio per il cambio del clima quindi in realtà dove prima c'erano temperature rigide dove la vite in alta montagna non viene coltivata oggi invece sta diventando l'abitad ideale quindi non c'è dubbio che una parte di quella agricoltura che era in pianura si sta spostando collina e addirittura in montagna quindi il futuro è proprio che la montagna diventerà l'abitad ideale per la cultura e la vita lei ha parlato che è stato il fondatore della desideria che adesso è un grande successo un messaggio per i giovani può essere un mestiere del futuro oppure lei è contento rifarebbe oggi ripartirebbe oggi io riparterei oggi chiaramente ma più che ripartire io devo ripartire i miei figli che per fortuna ci sono che sono entrati in azienda dopo che hanno fatto un loro percorso di studi professionale io sono la prima generazione della mia attività adesso aspetta i figli e i nipoti si devono portare avanti la grappa si può fare solo in Italia proprio come grappa come il cognac si può fare solo in Francia quindi c'è una grossa probabilità non si può delocalizzare è un prodotto unico oggi le esportiamo in almeno 40 paesi loro ne hanno altri 100 da conquistare quindi c'è solo da lavorarci su e capire che la grappa è proprio un made in Italy a tutti gli effetti un made in Italy un ottimo digestivo Castagnari mi viene in mente nella vostra produzione nella vostra attività altri tipi di digestivi oppure soltanto la grappa no no io sono partito con la grappa perché dovevo prima diventare credibile in questo mondo qua perché ci credevo dopodiché abbiamo abbinato l'amaro abbiamo abbinato chiaramente il gin quindi diciamo abbiamo una gamma di prodotti che possono chiaramente proprio completare lo spirito di Italy perché in giro con il mondo vendiamo proprio l'italianità per Cortina però abbiamo pensato che per il momento la grappa era proprio la perla dei distillati e quindi siamo orgogliosi di averla presentata oggi e vedrete che fra un paio d'anni quando avremo pronta che la riserva saranno pronti per vincere anche noi la nostra Olimpiade assolutamente e un'ultima domanda la vostra quota di mercato internazionale rispetto al nazionale in percentuale? noi facciamo il 15% circa di esportazione in Italia abbiamo più o meno questa quota il 15% io sono partito da zero e oggi rappresento il 15% della grappa italiana con questo progetto di Agadeita la possibilità di ampliare ulteriormente il mercato internazionale vi ragiono anche dal punto di vista turistico della promozione anche di Cortina è una nicchia questo funziona proprio da immagine chiaramente non c'era mai grappa per tutti da Cortina perché non ci sono la possibilità però è un'apriporta la grappa di Cortina può aprire ad altre grappe quindi io dico benvenuta Agadeita grappa di Cortina benvenuta quindi Agadeita grazie Roberto Castanier che ci ha fatto visita e ci ha presentato in anteprima appunto Agadeita della distilleria Castanier allora le auguriamo un buon lavoro e buona grappa a tutti e buona grappa a tutti grazie Castanier grazie a voi e a voi tutti grazie per la gentile attenzione arrivederci al prossimo numero di Dormiti Turismo